Tempo sulla nostra regione ancora caratterizzato dall'afflusso di correnti a tratti umide e ci sono dei fronti che stanno interessando la regione e arriveranno ancora nella notte tra venerdì e sabato. La giornata di sabato al mattino avremo un cielo in prevalenza nuvoloso, possibile ancora qualche debole precipitazione e poi una tendenza a un miglioramento nel corso della giornata, cielo variabile con condizioni tutto sommato più stabili e temperature che cominceranno un po' a risalire nei valori massimi. Per quanto riguarda la costa avremo un po' di bora moderata, borino che interesserà questo settore della regione, lo zero termico intorno ai 1400 metri. La giornata di domenica sarà caratterizzata dal bel tempo con cielo sereno, poco nuvoloso, quindi una bella giornata, ancora un po' di borino sulla costa che andrà poi attenuandosi, lascerà lo spazio alle brezze. Farà freddo al mattino, temperature sotto zero in pianura magari di poco e decisamente sotto zero in montagna, durante il giorno zero termico intorno ai 1200 metri e temperature massime intorno ai 12-13 gradi su pianura e costa. L'inizio della prossima settimana, lunedì, avremo un cielo da nuvoloso a coperto, sarà possibile qualche debole nevicate in montagna oltre gli 800.000 metri, bassa probabilità di precipitazione invece su pianura e costa, tempo migliore martedì anche se rimane variabile e quindi una situazione tutto sommato abbastanza stabile comunque, non ci sono particolari fronti in arrivo. Buon fine settimana a tutti!